oggi che cos'è arrivato? un super? super delle valigie e le lol le valigie delle lol facci vedere? apri wow facciamo vedere ma è bellissimo che cos'è? è trolle? delle lol guarda wow è magnifico che ci sta dentro? aspetta leggiamo allora il troll contiene 7 timbrini 18 pennarelli l'inchiostro non tossico un album da colorare 5 pastelli 20 adesivi e un adesivo da 12x12 wow è bellissimo guarda adesso possiamo aprirlo certo che possiamo aprirlo però dobbiamo andare nel soggiorno perché qua in cucina non ci riusciamo Anna facci vedere com'è wow è bellissimo questa è la valigia per le lol le surprise quindi diventa un trolley e tu te lo puoi portare giusto? giusto però però perché è mia perché è certo è tua ringraziamo la multiprint che ci ha inviato questo bellissimo trolley allora vogliamo aprire? sì allora questa è la carta che c'era facciamola vedere questa qua la luce un po' forte un attimo allora questa è la carta che c'era sì sta qua dove abbiamo letto quello che conteneva ora andiamo ad aprire il trolley allora da dove si apre? qua no da qui qui e qui aspetta ecco qua vai wow ma è bellissimo che c'è? c'è questo sembra di avere questo ah è a testa in giù aspetta mettiamolo diritto attraverso le altre bimbe che vogliono vedere il tuo video non lo riescono a vedere bene sì ecco qua papà guarda papà stiamo facendo un vlog perché è arrivato un super pacco mega gigantissimo per Anna è bellissimo wow delle lol surprise la valigetta delle lol surprise guarda poi ci sono gli adesivi allora ci sono gli adesivi questi qua questo è un modo eccolo questo è l'adesivo grande facciamolo vedere poi queste qua invece sono ah tutti i disegni da colorare queste sono le matite colorate queste sono i timbrini poi qua che c'è? ah ci sono i pennarelli sì come gli altri come l'altro box che ci aveva già inviato questo questo è l'inchiostro solo che c'è il disegno delle lol surprise e questi sono i timbrini facciamo vedere un timbrino eccolo qua un timbrino della lol surprise questa no no aspetta mamma se non si vede eccolo qua ma è bellissimo c'è sopra una sirena c'è sopra una sirena no ci sono le loline sì è una lolina sirena allora com'è questo questo giocattolo eh com'è? bello è bellissimo è bellissimo è bellissimo che cosa c'è? ci sono le matisse i crempini quello è l'inchiostro l'inchiostro per fare i timbrini però però ci sono anche questi stighe fa vedere? wow ma sono bellissime sono le loli le loli ma queste loline sono molto belle hanno dei bei capelli lo sai? sì lo so facciamo vedere che abbiamo messo l'adesivo grande qua ecco qua così il trolley è personalizzato e tutti sanno che è il trolley delle loline delle lol surprise questo ha un quadernino per poterlo colorare no si è sganciato quindi è un trolley molto bello è anche molto ricco di cose vero? tu che stai facendo? sto facendo sto togendo un attimo questo lo sirena come si toglie? cosa? questo come si toglie? io non lo so bisogna fare con un po' ecco qua con le unghiette eccolo qua dove lo devi mettere? dove vogliamo metterlo? questa è la parte posteriore dove c'è? metti ah lo vuoi mettere qua? no o avanti? o avanti è meglio avanti così tutti vedono che è il trolley delle lol surprise sì così così io così lo vedo tutti quanti fammi vedere ma è lungo? sì allora mettilo di lato ecco qua bravissima wow adesso sei? in pratica stiamo personalizzando adesso l'altro l'altro? da quell'altro lato? sì abbiamo personalizzato il trolley delle lol surprise forza? forza qua la? mettilo bene no aspetta non le metto bene allora parte è diritto? sì dai ecco qua è bellissimo questo trolley adesso lo faccio molti sticker tutti quanti? dobbiamo mettere? sì tutti quanti siamo pronti forza allora abbiamo personalizzato il trolley facciamo vedere come l'abbiamo personalizzato no questo è il dietro aspetta si sgancia allora Anna ha personalizzato il suo trolley ha messo tutti gli adesivi e poi ora che cosa devi fare? ah tu stavi iniziando anche a colorare una lolina vero? sì facciamo vedere dove l'hai messo? ecco ah eccolo là fai vedere quello che stavi colorando? è incastrato si è incastrato? ok facciamo vedere? gli faccio vedere gli faccio vedere la lolina la lolina che è colorato? sì eccola là eccola è tutta blu wow perché lei ha i capelli brillantinosi sì e poi? ci sono i timbrini sì eccole qua eccole no questi sono i timbrini ecco questo qua è la spugnetta per fare i timbri sì la spugnetta questa è la matita colorata con cui stavi colorando questa quella la blu che dici? questo trolley ti piace? sì molto bello vero? sì super bellissimissimo super bellissimissimo? ma dietro di te quei colori guarda dietro di te quei colori sono gli stessi del trolley sono i primi il primo kit che la multiprint ti ha regalato dici grazie a molti print grazie a molti print allora possiamo dire che questo vlog è finito? sì e il regalo ti è piaciuto? sì moltissimo? sì possiamo dire a tutte le bimbe comprate anche voi trolley di lol surprise? sì come me come me e poi vi lasciamo il link in box sì dove potete comprarlo? sì lasciate un video a comprare a lol comprare a lol le lolline sì e scrivetelo i commenti ah devono scriverlo anche nei commenti e metti la blog ah lo mettiamo anche al blog sì e dici lasciate un like like e iscrivetevi al canale e la fragola alla bacchetta di fragola la bacchetta di fragola no il canale di mamma si chiama il blog della disordinata no è in fragola vabbè il blog della fragola sì ciao a tutti ciao a tutti quanti ciao a tutti